Io non ti abbandonerai mai, né te, né... Come sia, ma dai, ci avrà un nome prima o poi sto figliolo. Quanto è bella sta figlia mia, dolce! Ci ha pensato tuo padre il nome. Gervinio. No! Tiacere, Antonio, per gli amici Tony, in che direzione va? Giuseppe, torni, vero? L'avete prenotato? Non abbiamo prenotato. E' che siamo un po' aggidati, stiamo per diventare papà. Maggio nel mio cd che è appena uscito. Che genere fai? Rock duro. Ma tipo le zeppie di Nirvana Metallica. Pubo. C'ho anche il tatuaggio. Tipo che mestiere fa? Lavora all'agenzia delle entrate? Sì. Si tocca. No, no, che mi... Oh, ma si tocca pure. Me le tocco dopo, glielo prometto. Ha detto che torna. Così lo corco. Quei tre lì sono amici tuoi, li conosci? No! Io ti amo, Katia! Ferrare umanum est! Perseverare ove! Per una battuta di merda, così è giusto che tu muoia! Allora, io sono stato rapito da degli arabi e sono nella villa di un emir omosessuale vestito da uccello. Cosa dici? Da strunz. Da struzzo? No, no, sei vestito da strunzo. Bip, bip. Ha detto bip, bip. Ho capito, ha detto bip, bip. Va tutto bene, torno subito. Mi si è aperto il parto, cretino! Io adesso, sapete cosa faccio, io vi denuncio tutto. Io che sfondo! Cos'è che gli hai detto? Aia. Dobbiamo andare in ospedale! Come al corso preparto! Come al corso preparto! Respira! Respira! Spingi! Spingi! Però non spingi troppo, se no ti cacchi sotto!